Da Alghè.it al Corriere della Sera, vola il vignettista Marco Vukic. Dopo le varie pubblicazioni sui maggiori giornali regionali e nazionali, la pungente matita di Alghè.it sbarca sul blog del Corriere.it, tra i più letti quotidiani italiani. Qualche giorno fa era stata l'Unità, il giornale fondato da Antonio Gramsci, ad inserire nell'inserto satirico in edicolo a lunedì la vignetta firmata Vukic. Oggi è l'erriso degli angeli di Giovanni Angeli e Company, che nel blog 3 Il Numero Perfetto pubblica al centro della grande pagina all'inconfondibile disegno dell'Alghèrese. Disegnare è un piacere, sono contento e soddisfatto, ha detto il lusingato.